buongiorno da obiettivo news oggi 23 gennaio e lo sposalizio di maria giuseppe il 23 gennaio si celebra una giornata mondiale dolcissima quella della torta il termine francese torta gâteau deriva da un tipo di biscotto del dodicesimo secolo chiamato gastel piatto rotondo era fatto con farina miele e grasso le torte per eccellenza nella forma circolare sono tonde perché in passato le torte venivano preparate per celebrare spiriti e divinità l'usanza di preparare cibi dolci per celebrare una ricorrenza una persona pur ripresa dai greci per rendere omaggio alle idee e proprio grazie alla dea artemide custode della luna naccono le prime torte tonde dolci bianchi a base di farina e miele che riprendevano la forma del satellite e venivano illuminate con delle candele alla fine delle celebrazioni le candele venivano spente con un soffio per allontanare gli spiriti malvagi non a caso la forma simboleggia il cerchio della vita e oggi anche la giornata nazionale dell'essar del saor tra i nati oggi abbiamo eduard mané 1832 e stendhal 1783 tra le scomparsi salvador dali 1989 e e giambattista vico 1744 ed eduard munch 1944 e